In questo video vediamo come testare la velocità di una chiavetta USB o di una SD o comunque di qualsiasi dispositivo rimovibile su Linux tramite GAI o GUI più l'italiana, Graphical User Interface, quindi tramite interfaccia grafica. Il programma che utilizzeremo per fare questo si chiama GNOME Utility Disk, quindi in questo modo l'Utility Disk di GNOME, GNOME Disk Utility e utilizzeremo questo perché nella maggior parte delle distribuzioni, soprattutto le Ubuntu Based ma comunque anche in altre, è già preinstallato. In ogni caso, ad esempio nel caso di Arch Linux non è preinstallato ma può essere tranquillamente installato, pesa veramente molto molto poco. Quindi una volta installato, o comunque nel caso sia già preinstallato, lo andiamo ad aprire, quindi inseriamo la nostra chiavetta USB nel computer e andiamo ad aprire la nostra Utility. Ok, una volta che siamo qui, ci dirigiamo qui, quindi sulla nostra chiavetta che ci verrà riconosciuta, insomma la riconoscerete anche voi in base alla grandezza, in questo caso so che è questa perché è una chiavetta da 2 GB e ora possiamo far andare il nostro benchmark. Ricordiamoci però che il risultato varia da tante cose, ad esempio dal bus USB del computer, quindi questo è il motivo per il quale su un computer una chiavetta può essere più veloce e su un altro più lenta e poi anche dal tipo di adattatore, perché in questo caso una microSD con un adattatore da 5€, quindi abbastanza scadente, chiaramente con un adattatore più costoso e quindi di qualità più buona e di marche più blasonate, può essere un po' più veloce. Quindi andiamo qui sopra nei puntini e clicchiamo Benchmark Disco. Ci si aprirà questa schermata, clicchiamo Avvia Benchmark e ora qui dobbiamo fare i nostri settaggi. Il numero di campioni, detto terra a terra il numero di prove che farà. Chiaramente, come leggiamo qui, un numero grande produce grafici più accurati ma richiede più tempo. E poi dimensione campione per MB, quindi i MB da scrivere per ogni campione. Ancora una volta, vale lo stesso discorso di prima, dimensioni grandi del campione tendono a produrre benchmark più precisi al costo di una più lunga esecuzione. E poi numero di campioni. Ancora una volta, un numero grande produce un'analisi più precisa di tempi di accesso ma richiede più tempo, chiaramente. In ogni caso, questi settaggi possono essere modificati, quindi possiamo aumentare o diminuire il numero di campioni, aumentare o diminuire la dimensione per campione, oppure aumentare o diminuire il numero di campioni. In questo caso io metterò tutto a 5 al fine di minimizzare al massimo i tempi di esecuzione del benchmark, però questi settaggi ve li sconsiglio perché sono altamente imprecisi. Lasciamo eseguire benchmark in scrittura e clicchiamo su Avvia Benchmark. Chiaramente ci chiederà la password di amministratore, di superutente, quindi ve la diamo. E ora partire il nostro benchmark, che chiaramente con i settaggi che ho messo io sarà estremamente veloce. Eccolo qui. Questi qua sono i nostri risultati, quindi tasso medio lettura 2,9 MB per secondo, quindi la velocità di lettura, tasso medio di scrittura 2,4 MB per secondo, quindi la velocità in scrittura, e tempo medio di accesso 2,86 ms. Quindi possiamo chiudere, e chiaramente questo può essere fatto anche per l'hard disk interno, quindi in questo caso possiamo provare le diverse partizioni che abbiamo. Questo qui è il mio schema di partizionamento, e possiamo fare il test per qualsiasi partizione. Grazie. Grazie. Grazie.